Buongiorno, siamo con Antonio Cialipuviani che sarà con noi al prossimo Investing Napoli il 23 marzo. Antonio, tu sarai il protagonista di due interventi, il primo in sala trading e il secondo in sala investing. Puoi darci una panoramica dei contenuti e di quello che farai durante entrambi gli interventi? Certo, il primo è molto semplice, è proprio Trading Live, tra l'altro questa volta Napoli in parto per primo, cioè già dalle 8.45 è previsto il mio intervento dove modererà Giuseppe Di Vittorio insieme a altri valenti trader, opereremo in diretta, sarà interessante specialmente l'inizio perché sono anche le fasi forse più adrenaliniche, più emozionanti dove magari se riusciamo a fare il tempo cercheremo anche di fare l'asta di apertura del feedback, è qualcosa di molto interessante. Poi alle 15.30, come già anticipato, insieme a Stefano Fanton abbiamo un intervento che recuto estremamente interessante dal titolo che è tutto un programma, solide basi per un lungo e solitario viaggio. In questo titolo c'è tutto, solide basi, insomma noi siamo convinti come la formalizzazione precisa di concetti per tradare non sia possibile, per cui non esiste il sacro graal, non esiste questa possibilità, ma cercheremo di dare quelle indicazioni, le solide basi in un'ora nel tempo in cui ci sarà concesso per poi affrontare per quelli che verranno a sentirci quello che sarà il loro percorso, ma se con le basi giuste. Ecco questo è il nostro intento. Allora ci vediamo il 23 marzo a Napoli. Senz'altro, sarà per me allo solito un piacere. Perfetto, grazie mille.